Anticipazioni tempesta d'amore venerdì 2 aprile 2021. Hildegard decide di consegnare la pietra alla comunità. Prima di farlo però rimuove una scheggia dal meteorite che usa per creare una collana per suo marito. Vanessa è sopraffatta dal desiderio e di notte si arrampica sul balcone nella stanza di Robert per stare con lui. La mattina dopo il Salfid la presenta perfino a Valentina come la sua nuova fidanzata. La zombie Claire non sta più nella pelle. Ma qualche ora dopo la giovane Auriglia una conversazione tra padre e figlia dove l'uomo non spende affatto bellissime parole per lei. Lucy entusiasta il re del quiz Sebastian Plusman ha fatto il check-in in hotel come ospite al Fursenhof. Quindi è scogita un piano per avvicinarlo. Si scopre che anche Rosalie è interessata all'uomo. Christophe commette un gravissimo errore e manda a monte tutti i suoi piani volti a salvare l'hotel. Franzi è felice di aver fatto pace con Lucy ed entrambe passano dei momenti molto divertenti con Stefan. La ragazza di notte sogna ancora Tim. Preferisce tenere il segreto per sé per non far saltare le nozze.